allora ho finito ho fatto gli ultimi ritocchi la circuitazione interna voglio solo far vedere com'è avvenuta sicuramente ripeto c'è chi può fare di meglio di me sicuramente ma così è venuta la circuitazione allora solo che ho rimasto da collegare i filamenti delle cc83 che devo fargli il circuitino che è una cagatina che avevo messo lì ma quello non me ne frega niente perché sono cinque minuti di lavoro gli ho messo gli switching questi qui rossi perché quelli blu fanno cagare mentre questi qui rossi sono migliori perché oggi non riesco neanche non ho la voce perché stamattina mi sono dovuto svegliare alle otto e mezza mi sono incazzato come una bestia ho mandato mi sono urlato come un matto al telefono perché gli uffici comunali non rispondono mai al telefono e non mi sono incazzato gli ho detto è meglio per voi che mi rispondete perché dopo la fine ho telefonato all'ufficio che sta lì di fianco nello stesso corridoio dell'edificio ho detto mi passi la signorina tal di tale perché sennò vengo lì faccio del casino infatti dopo mi hanno passato la signorina al telefono allora mi da l'appuntamento via mail perché in questo momento è meglio che non vengo lì perché sennò faccio un gran casino gli ho detto perché a me mi sta sul cazzo un ufficio comunale che non risponde al telefono ma adesso sono tutti così è cioè in un nuovo modo adesso non rispondere più al telefono poi dopo ti prendono per il culo ah ma abbiamo il telefono che è rotto che è guasto sì sì come no come no ah ma noi l'abbiamo chiamata ieri sì sì come no ma vaffanculo va e di qua e di là e quindi caso strano dopo le mie incazzata di stamattina che mi hanno sentito anche dall'altro che dell'altro vabbè mi hanno sentito anche i vicini sicuramente fatto sta che dopo un'oretta un'oretta e mezza mi è arrivato finalmente la mail con l'appuntamento e che andassero a fare in culo perché io tengo il telefono spento a me non me ne frego un cazzo ah ma lei deve tenere il telefono acceso io faccio quel cazzo che mi pare voi avete un ufficio avete un lavoro dovete rispondere al telefono che questo è il vostro lavoro io sono a casa mia non devo lavorare faccio i cazzi miei non sono obbligato a tenere il telefono acceso stop quindi la questione è questa e allora adesso c'è un po la voce così perché è la stamattina che mi hanno fatti incazzare come una bestia altronde la gente è abituata a stare zitta a subire a non dire nulla io invece mi faccio rispettare caso strano mi ha dato l'appuntamento e ci sarà un'altra persona al posto suo ma guarda chissà perché ho l'intuizione così che si che abbia un po paura di me ma guarda te ma mica io metto le mani da sola gente assolutamente però se tu sei uno stronzo mi fa incazzare io te lo dico in faccia capito vabbè detto questo allora così adesso è finito e praticamente ho ordinato le valvole sul sito btb electronic con la cappa è un sito tedesco che praticamente sto aspettando che mi mandino sta benedetta sto benedetto tracking perché doveva arrivarmi l'altro ieri non mi hanno mandato nulla c'è un sito intra dicono che anche il giovedì dal lunedì al giove al venerdì dicono ecco dal lunedì al venerdì rispondono dalle 9 alle 12 e dalle 3 fino alle 5 mi sembra oggi giovedì non si sa perché non risponde nessuno mandi le mail non ti caga nessuno nessuno ti risponde bello evidentemente anche la in germania hanno capito come fare come facciamo come gli italiani che non fanno non rispondono al telefono si fanno i cazzi loro prendono i soldi senza lavorare e quindi adesso domani devo telefonare devo usare il google traduttore a parlare in lingua inglese leggendo la lingua sul computer perché non sono capace di parlare inglese però fatto sta che comunque devo telefonare incazzarmi anche con loro perché hanno rotti coglione vabbè una volta che mi arriveranno queste benedette valvole dopodiché questo finalmente sarà funzionante mi sono dimenticato un particolare devo sto aspettando anche i connettori per gli altoparlanti da notare i buchi allora sono tutti storti come si vede uno più alto uno più basso uno più distante uno più vicino un po più alto dell'altro questo ancora più alto sarà il dosso praticamente no e questo più basso quindi allora questo pezzo qui è un pezzo di alluminio la barra di alluminio che ho tagliato in caso non è un'altra così è ancora un metro praticamente nuova potrei ritagliare un altro fare i fori dritti ma sinceramente che a me non me ne frega un cazzo perché per me mi va bene così d'altronde se dovesse dovuto fare per qualcuno ovvio che l'avrei rifatto il pezzo perché sennò questo mi dice ma tu cosa fai non sei neanche capace di fare dei fori che avrebbe ragione ma siccome che non faccio niente per nessuno e questo lo faccio per me l'ho fatto per me quindi non me ne frega assolutamente niente e quindi questo lo dico per quale motivo per il motivo che io mi concentro più puoi stare lì dio bono mi concentro più sul discorso che alla fine deve funzionare bene suonare bene e non sulla solo sulla parte estetica come fanno oggi i venditori di oggi che si concentrano solo ed esclusivamente sulla parte estetica che a noi dalla manopola color oro o d'argento o se la manopola è di metallo tornito al pieno a noi non ce ne frega un cazzo perché anche se ci metti una manopola di merda tu con quella lì ci devi ruotare alzare e basare il volume il volume non è che cambia se ci metti la manopola di oro o una manopola di plastica di merda ok è questo che sto dicendo bene si fa fatica a vedere comunque però è che se c'era un po più luce era meglio vabbè comunque sicuramente ripeto c'è chi fa meglio di me condensatori da notare il discoppiamento della vima piccolini per le cc83 altri due piccolini la che non si vedono si vedono poco i condensatori in mica argentata perché se faccio così riflette la luce in mica argentata che non è poco altri condensatori della miflex polipropilene anche questi condensatori vabbè nel cattolici di comunque lovese perché comunque di quella capacità lì da 47 micro 35 volte sono comunque hanno comunque una bassa induttanza cioè è ovvio però dopo mettendoci anche quello di bypass cioè le caratteristiche migliorano ok quindi in questo caso qui è inutile stare a guardare i condensatori di di super super blasonati che non servono un cazzo se non con capacità più alte e poi c'è questa resistenza qui che è la resistenza del bies catodico ovviamente quindi dal circuito la potenza che doveva essere di 3 watt in questo caso avendole messe 3 in parallelo sono 6 watt quindi come potenza del doppio quindi cioè dal momento che io dopo qui non andrò a chiudere e non andrò a mettere la griglia come fanno gli altri a me la griglia e sinceramente non è che mi piace molto perché io odio la polvere non la polvere non deve entrare stop e come non deve entrare nemmeno la luce a parte adesso vabbè perché c'ho la lampada accesa devo far vedere ok adesso gli ho dato il suo spray il spray che fa da schermatura quindi non ossiderà nulla assolutamente e purtroppo si vede un po così con questo tablet ma perché dà l'idea che quando guardo nello schermo del tablet sembra tutto incasinato ma quando lo guardo a occhio nudo è veramente una strada di città super ordinata e non capisco perché dal tablet comunque questi due condensatori non so perché mi è venuto così li ho messi qui perché non sapevo dove cavolo metterli dal momento che ho cercato di vedere se avevo già in casa dei condensatori da 100 micro andavano che sono per la nodica delle cc8 3 ma siccome che andavano benissimo da 350 volte in questo caso ho utilizzato questi che sono sovradimensionati ma va bene così quindi ci ho fatto qui un tubicino di acciaio perché così si fa da schermatura perché altrimenti la nodica potrebbe interferire sul segnale visto che qua ci sono i due condensatori di disaccoppiamento di inter stadio e quindi io ho preferito usare questo tubicino di acciaio che non l'ho collegato a massa però potevo anche collegarla ma non serve a nulla bene qui ci sono altri 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 due condensatori di quelli vintage sempre per il bsa catodico del cc8 3 che sono dalla sprague sprague sprogue come cavolo si pronuncia vediamo se riesco di illuminare si vede vediamo mette il fogo ingrandisci della sprague si vabbè sono da 85 gradi e pazienza perché anche quelli avevo già in casa però comunque dai diciamo che ho usato poi roba che non non insomma non è proprio roba scarsa scarsa ecco bene ho cercato di fare il mio meglio sicuramente i prossimi saranno migliori però ripeto io farò cose più semplici perché adesso mi sono veramente stancato perché ci vuole troppo tempo quindi adesso ho in programma di fare cose molto semplici adesso ho dei progetti che voglio finire vediamo un po dopo di questo se finalmente riesco a respirare un po ok quindi adesso sto aspettando i connettori dal sito di audiophonics che è francese perché li ho presi lì perché lì si possono prendere anche singolarmente mentre qui in italia te li vendono a coppie è una cosa che a me sta sul cazzo l'ultima volta ho dovuto chiedere un favore a una ditta che qui in italia del bolognese però io sinceramente di chiedere sempre i favori mi sono anche rotto i coglioni fancheri ma così a caso e quindi li ho presi lì e su questo sito francese poi sono andato in un altro sito appunto ripeto dalla btb elettronica prendere le valvole per il momento presa solo 6 v6 stop le c3 uso quelle che già in casa per fare un test per fare una prova perché a fine mese ho attenzione di prendere due e cc83 fatti un po diciamo di quelle un po buone voglio provare nel senso non che non siano buone quelle che ho o quelle che avrei preso perché delle electro armoni che sono comunque buone secondo me però diciamo per provare a vedere se c'è una differenza sonica voglio provare a prendere un altro tipo sinceramente adesso per il momento ho addocchiato le lin line lin la lin lai come cavolo si pronuncia vabbè oppure ci sono le shunguang li shanguang li ma che cazzo ne so i nomi cinesi di merda vabbè sono valvole comunque di lusso di un certo pregio cinesi che comunque rispetto rispetto ad altre marche che costano di più è un buon compromesso secondo me e voglio provarle quindi nel caso che una volta che vedo che suona bene che tutto quanto a posto sicuramente la prima cosa che faccio ordino le due valvoline e basta e poi dopo ho intenzione di prendere anche due altoparlanti due casse perché altoparlanti due casse acustiche usate vintage che andrò a prendere su un sito che si chiama oggi facciamo un po di pubblicità si chiama oldstore.it e li ho visto un paio di cassettine che mi piacciono che le voglio mettere in cucina e comunque sicuramente se le prendo lì vintage non sono casse moderne per cui non avrò gli altoparlanti made in cina con furore ok ma avrò delle casse con degli altoparlanti seri che se anche dovesse un giorno guastarsi il rubber come si dice la sospensione pneumatica lì la guarnizione quella roba lì quella lì c'è chi la rimette nuova e vai avanti per altri 30 40 anni e arrivederci buonanotte se poi le casse esteticamente fanno cagare al massimo se uno vuole si possono sempre fare verniciarle diciamo a lucido le porti le smonti le porti da un carrozziere le fai verniciare a lucido buonanotte c'è chi ha fatto questo a me mi è piaciuto poi magari qualcuno ti manderà dei 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 colpi perché tu vai a toccare della roba vintage che non andrebbe toccata ma andrebbe lasciata così com'è pazienza però io ripeto se adesso non lo so se lo farò però per dire se io avessi delle cose così era anche capace di farlo perché a me interessa il suono dell'estetica me ne frega un emerito ecco però ci tengo anche dire giustamente è vero anche questo perché è giusto che anche l'occhio vuole la sua parte perché comunque avere per dire anche adesso tu vedi una cosa così abbastanza ordinata capisci che non è una cosa fatta da un princi princi super principiante però anche se qualcuno magari lo fa meglio di me sicuramente ecco se adesso dovessi rifarlo avrei dovuto cioè dovrei se dovessi rifarlo dovrei rifare il telaio leggermente più grandino per lavorare meglio per avere più meno casino ecco e anche se a di per sé non è complicato ecco abbastanza semplice lo schema è questo qui ripeto faccio vedere lo schemino adesso questi qui sono i valori che non ho messo cioè i valori esatti sono questi qui che ha usato perché erano i suoi perché questi mi sono sbagliato ho fatto copia incolla che l'ho preso da un sito internet si chiama retronic mi sembra con la cappa tutto con la cappa oggi e la rivista si chiama una rivista francese ce ne sono tutte cioè tutte insomma sono un bel po di riviste online in pdf si chiamano led led in questo caso mi sembra che il numero sia 159 161 non mi ricordo ci sono varie versioni tra cui c'era anche questa qui il parallelo cioè c'era il single ended poi vabbè l'ho modificato di nuovo per farlo diventare un po spul e lo ce l'ho fatto modificare da questa persona qui che mi fa il trasformatore di uscita e quindi praticamente i valori sarebbero per quelli in single ended quindi non fateci caso per cui dai 150 ohm di resistenza dianodica ho messo i 270 quindi per dire ecco l'unica cosa che cambia è qui l'uscita quindi ho fatto insomma quindi ho messo gli switch per farlo andare in modalità triodo cioè falso triodo o normale tetrodo praticamente e io l'ho provato perché ripeto ne avevo già fatto uno che era grazie a mia amica tempo fa ho fatto anche il video e suona che è una meraviglia cioè non c'è nulla da dire tra l'altro non c'è bisogno di usare nemmeno un preamplificatore perché anche solo con le torci di ho visto che non ha problemi a spingere e oggi sta cazzo di lampada deve cadere 50 volte e mi si spegne anche bene ma fanculo ecco qua ok a posto questo è tutto aspettiamo che mi arrivino ste valvole vediamo se mi rispondono domani mattina quando io vado via se torno a casa di se mi hanno risposto con la mail speriamo altrimenti si becheranno cercherò di usare il google traduttore telefonare e poi vediamo se non mi scappa anche una parolaccia tradotta nella loro lingua perché non è possibile comunque intanto gli ho mandato una mail gli ho anche scritto tradotto in inglese che non penso che da loro farò più acquisti perché non c'è comunicazione e quando non c'è comunicazione per me c'è menefreghismo totale verso i clienti perché io ho anche scritto dal momento che non parli inglese sono ignorante sì è vero sono ignorante va bene e sono in italia e quindi devo comunicare via mail ma se tu non mi rispondi via mail tu mi crei difficoltà cioè io ho già delle difficoltà che non so parlare la tua lingua tu poi non mi rispondi nemmeno le mail insomma mi fa girare anche cazzo questa cosa qui è ok dopo quindi connettori devo solo collegare qui le uscite 4 e 8 ohm la massa è già collegata con la messa a terra ovviamente che andrà lì tutto quanto un punto unico massimo tutto posto niente c'è solo da aspettare e benedette valvole fine del video così è così si presenta magari un giorno più avanti vedo di rifare il circuito di alimentazione perché effettivamente è ingombrante anche i condensatori forse sono un po troppo grandi qualcuno direbbe sì c'è ragione perché ok e quindi magari se rifaccio il circuito qui più avanti ma una cosa semplice riuscirò anche ad avere più spazio e fare una cosa un po più ordinata ancora di più lì c'è il l'igbt qui c'è il suo dissipatorino di raffreddamento e vediamo un po per me arrivano queste benedette valvole delle 6 v6 perché ah giusto finisco perché su sto sito qua c'è l'imbarazzo della scelta c'è tutta una serie non c'è tutta insomma c'è un bel po di valvole della di un tipo o di un altro tipo non so se vuoi della elettron monics c'è dell'elettron monics come l'ho preso io se le vuoi della come si chiamano della della tung sol ci sono anche della tung sol ci sono dalla mesabushi ci sono della gold lion ci sono tante marche della jj che fanno cagare secondo me la jj ripeto c'è la della pesvane anche mi sembra non sono sicuro vabbè insomma comunque ci sono i quartetti ci sono le coppie selezionate ci sono le varie singole perché qui in italia non hanno un cazzo non sono forniti di un cazzo se ce li hanno ne hanno una o due ok è già tanto cioè già tanto se si trova la coppia figuriamoci il quartetto o l'ottetto come si dice no c'è otto valvole figuriamoci se qua è già tanto se trovi quella valvola figurati se vai a fare come faccio io se vai su questo sito qui straniero che ti puoi vedere un po tutte le marche che ti pare a te no invece qui se c'è ammesso che ci sia o quella o quella cioè ma è così qui si lavora così in italia vabbè e poi dopo danno la scusa la guerra che c'è la guerra in russia quindi i porti sono chiusi però gli altri chissà come fanno c'hanno i magazzini che sono strappini di roba domanda così da ignorante vabbè e niente quindi poi anche le altre valvole anche quelle di segnale le cc83 le 12 x7 che sono la stessa cosa le cc88 insomma ci sono tante valvole anche lì c'è l'imbarazzo della scelta e poi c'è un altro sito che anche quello lì non scherza che si chiama banzai music che è sempre tedesco che anche lì hanno un po di valvorine quindi l'importante secondo me è già l'importante cosa sto dicendo niente però alla fine sono valvole russe quindi suonano bene voglio dire adesso c'è chi c'è chi dirà che l'electro armonics non sono proprio il massimo come valvole secondo me sono delle buone valvole a parte che non cambia nulla se io metto una valvola un'altra in questo caso perché è il circuito che fa il suono e i trasformatori che fanno il suono per cui chi l'ha fatti come sono stati fatti e tutto quanto se tu cambi valvola c'è poca roba forse giusto magari quella di segnale può fare differenza quello sì perché è un altro discorso perché dal momento che quello che entra viene amplificato se entra una merda viene amplificata la merda se entro il suono pulito perfetto viene amplificato un suono pulito perfetto quindi per dire quello magari sì le valvoline di segnale potrebbero fare una differenza ma non certo quelle di di potenza cioè il finale scusate un attimo noi che sentivo scrocchiare avevo dimenticato dalla il fornello acceso e lo spento e niente dicevo che praticamente secondo me comunque quello che ho detto adesso sì le 6 v6 dell'electro armonix comunque come marca l'electro armonix da quello che mi sono documentato le fanno come le facevano una volta se qualcuno pensa che ancora oggi ci siano le valvole nos nelle scorte di magazzini nel 2024 non hanno capito un cazzo cioè queste valvole cos'è non finiscono mai non lo so io allora quelli che ce li hanno sono quelli che con le collezionano le tengono a conto per farci del del business e basta quindi sono solo quelli che sono i privati più principalmente ok stop ma non è che e poi ci sono le truffe ci sono le truffe perché una valvola comunque tu cancelli la scritta sul vetro ne metti un'altra e te ti fai credere alla persona che che siano un osso ma non sono un osso assolutamente e poi magari ci sono quelli che le rigenerano non so come fanno poi magari te le vendono come nuove ma non sono nuovo un cazzo e quindi per dire allora l'unica differenza che c'è con le valvole nos questo è quello che dico io ma non lo dico solo io lo dico anche altri che sono famose perché quando venivano fatte venivano fatte per resistere nel tempo e durare nel tempo quindi perché venivano prodotte per i militari l'aeronautica militare e quelle robe lì erano addirittura prova di bomba atomica per dire cioè quelle cose lì quindi sicuramente avevano una durata lunga ma tanto lunga mentre magari quelle oggi quelle di oggi durano 8 ore e poi sono da cambiare e va bene però a livello sonico come suonano secondo me addirittura come l'elettro armonics possono suonare meglio quelle di oggi certamente di quelle di una volta stop il discorso è finito lì ed è chiuso secondo me perché come ho detto il resto non non fa nessuna differenza quindi io per esempio la jj non lo comprerei mai perché secondo me la jj fa cagare nel senso che magari suonerà anche bene però dopo un po tu vai lì ti rimane la valvola in mano cioè ok si sta a credere lo zoccolo perché sono fatte con lo sputo magari meglio una tad che la jj secondo me poi che vi vengono dire che la jj adesso ha comprato da 18 anni non so quanto tempo la macchina usata che aveva venduta la west electronic di quando ha chiuso eccetera eccetera le jj a me sinceramente non me ne frega una minchia perché tanto comunque fan cagare stop e caso strano tutti anche nei siti italiani se non trovate le valvole le jj ci sono sempre chissà perché vuol dire che non ne vuole nessuno perché il fatto che rimangono lì e vuol dire che non ne vuole nessuno e loro le hanno sempre lì nel magazzino che non riescono a venderle o che ne venderanno poche allora c'è quello che c'è pochi soldi ma sinceramente ci sono delle valvole cinesi migliori che sono allo stesso prezzo se non di meno delle jj secondo me poi adesso io non me che me ne intendo non sono l'esperto però così da ignorante provo di la mia quindi per dire non è che se io ho preso l'electro armonix adesso sono una merda perché magari potevo prendere le gold lion oppure non so le altre tipi di marche cioè o se metto la nos che costa non so quanti soldi cambia la storia non cambia un cazzo se cambia la a livello psicologico secondo me che la gente è convinta che dopo un po che ha speso tanti cioè dopo tutti quei soldi che ha speso è convinta che il suo suoni meglio e che sia migliore del mondo non cambia un merito cazzo non cambia e questo non mi la diranno mai perché comunque basterebbe fare una cosa metterebbe prendere una platea di gente vendarla vendarli gli occhi fargli sentire la differenza tra l'una e l'altra e chiedere se sentono la differenza che non hanno nemmeno visto quale valvole sono state messe prima e dopo e non sentiranno un cazzo stop e forse 23 su una ventina di persone siano vabbè che poi subentrano fattori psicologici e lì dopo psicoacustici vabbè niente detto questo il video già 26 minuti stop il video perché mi sono rotto le balle e faccio l'ultimo video quando mi arrivano le valvole così lo provo e faccio un bel video con la musica faccio sentire non dico che faccio sentire come suona perché col tablet non è che si possa dire chissà che però farò vedere che sarà funzionante è sicuramente unico del suo genere perché comunque bianco metallo c'è il non c'è il metallo ma c'è tutto a vetro resina il cornice di legno di multistrato è fatto in un certo modo cablaggi in aria trasformatori di uscita fatti a mano non dalle macchine controllo numerico e componenti di una certa qualità anche condensatori la presa iac della furutec mentre gli altri che voi pagate anche 5 6 mila euro avete una presa iac da un euro e 50 per dire ecco il potenziometro dell'alus ha tutta una sua particolarità e che secondo me poi un bel trasformatore toroidale fatto in un certo modo resinato con il suo contenitore metallico e insomma non è un giocattolino alla fine ecco di queste cose così fatte in casa dico in italia poi all'estero sicuramente ci sono ma non sono qui in italia certamente sono in giappone in india i posti magari in germania in russia ma qui in italia queste cose qui non le fa vedere nessuno cioè non le fa nessuno sono tre quattro persone semmai e basta ma quelli che fanno questi lavori qui solitamente sono quelli che poi vi chiedono soldi quindi vabbè niente fine del video così è e poi funzionerà spero